Caroline Smith e la battaglia con il tumore, ero terrorizzata per mio marito. Caroline Smith ricorda la malattia, ero terrorizzata per Tino. Personalità, leadership, competenza e una forza fuori dal comune, questa è Caroline Smith. La famosa ballerina e coreografa, presidente di giuria di Ballando con le stelle di Millie Carlucci. Si è raccontata in una interessante intervista rilasciata al settimanale Intimità. A colpire del racconto di Caroline Smith e in particolare la sua battaglia contro il tumore. Triste disavventura davanti alla quale la ballerina non ha mai chinato il capo. Ma ha sempre affrontato il problema mostrando i denti e con una forza certamente difficile da trovare. Non è mancata però la paura, in modo particolare per i suoi cari e così Caroline Smith ha ricordato alcuni momenti. Quando ho scoperto di avere un tumore al seno ero più che altro terrorizzata per Tino. Nemmeno riusciva ad andare in ospedale, solitamente sveniva per la tensione. Specie i primi tempi dovevo sempre confortarlo. Caroline Smith, sospiro di sollievo, le ultime tacc sembrano belle, l'aggiornamento sulla malattia. Proseguendo l'intervista tra le pagine del settimanale Intimità. Caroline Smith ha voluto aggiornare i fan circa l'evoluzione della malattia che l'ha colpita ormai qualche anno fa. Oggi la presidente di giuria di Ballando con le stelle sembra stare fortunatamente bene e i suoi ammiratori possono tirare un bel sospiro di sollievo. Le ultime tacc sembrano belle, sembra che non abbia più nulla. Infatti il giorno in cui me l'hanno comunicato sono uscita dall'ospedale piangendo di gioia. Poi però mi hanno comunicato un nuovo ciclo di chemioterapia rivelato Caroline Smith. Ballando con le stelle, Caroline Smith ammette, stalkerò i concorrenti sui social. Caroline Smith, intervenuta per commentare un fatto noto alla vita in diretta nei giorni scorsi. Ha rivelato al settimanale Intimità una curiosità sui concorrenti di Ballando con le stelle. È vero che spio i concorrenti sui social, sono una stalker affettuosa ha scherzato la presidente di giuria dello show di Millie Carlucci.